Amici e spettatori benvenuti all'appuntamento con il campionato italiano di Lega 2 di basket siamo alla sesta giornata e oggi abbiamo un match davvero molto caldo fra Fabriano Basket e Sic Chiesi il derby per eccellenza qui nelle Marche, due cittadine separate da soltanto 48 km una rivalità cestistica davvero fortissima, entrambe ben posizionate in classifica nel campionato quarto posto per entrambe con 6 punti, 3 vittorie e 2 sconfitte nel loro tabellino fino a questo momento quindi tutta una partita da vivere tra due squadre divertenti che attaccano molto bene e che saranno sicuramente in grado di regalare un ottimo spettacolo insieme a me per commentare l'incontro Luigi Balduini avremo tanti buoni giocatori da vedere in particolare direi l'attrazione principale è probabilmente Drew Nicholas campione in CAA con Maryland è sicuramente un giocatore molto entusiasmante vero Luigi? è un giocatore che ha iniziato alla grande questa stagione era per lo più sconosciuto ancora qui in Europa anche perché poi è molto giovane ha solo 22 anni, è un giocatore che sta entusiasmando le platea ha ridato entusiasmo a questa piazza di Fabriano con la media più o meno di 35 punti a partita è il capo caloniero del campionato con 34,8 e quindi sicuramente una mano molto calda non solo però è un realizzatore, è uno anche in grado di gestire le situazioni sul parquet non è un accentratore assoluto assolutamente, addirittura contro Ragusa ha segnato 47 punti che è stato il record della giornata qui in A2, in Lega 2 è un grande giocatore, un grande distributore anche di gioco sa fare il penetra e scarica e praticamente ne parlavamo anche prima della partita con Ario Costa, non è poi così questo giocatore egoista come potrebbe sembrare dalle medie che ha fatto in queste prime giornate hai citato Ario Costa che è il general manager della squadra di Fabriano andiamo a vedere quali sono le formazioni delle due compagini che scenderanno sul parquet tra qualche istante mancano in realtà 7 minuti e 20 secondi all'inizio del match quindi abbiamo ancora abbastanza tempo per arrivare alle formazioni dicevamo comunque non c'è solo Drew Nicholas da seguire c'è anche in casa Fabriano per continuare un Antonio Smith davvero dominatore sotto i tabelloni questo prodotto dell'Università di Michigan State una delle università che ha dato alla basket grandi nomi ne cito solo uno così che vestiva la maglia al numero 32 dei Los Angeles Lakers un tale Irvin Magic Johnson che ha fatto abbastanza diciamo per questo sport non abbiamo detto poco infatti poi anche negli ultimi stagioni con Matthew Cleese e Mo Peterson insomma una squadra che ha vinto il titolo in CAA e ha sempre buoni giocatori comunque Antonio Smith ha giocato in CBA con i Grand Rapids anche in IBL è un giocatore che anche lui ha iniziato molto bene questa stagione contro Scaffati ha realizzato 15 punti a 19 rimbalzi e comunque è uno dei giocatori più importanti e più chiave di questa nuova Fabriano ha un'impressionante statistica ai rimbalzi offensivi 8,2 per partita che sono veramente qualcosa di clamoroso ma dopo aver parlato tanto di Fabriano e della squadra diretta da Stefano Cioffi un'occhiata anche a quella di Luigi Gresta l'allenatore della Sicchiesi anche qui non mancano certi giocatori di interesse forse è una squadra un po' più equilibrata con un maggior numero di giocatori che può fare la differenza a partire dal suo playmaker Alberto Rossini che è l'unico giocatore praticamente solo perché abbia esperienza di derby ma da tenere d'occhio anche Mason Rock, Brett Lizard e Trenton Whiting insomma non chiede Jamal Robinson e quindi una squadra decisamente molto interessante mentre questa è la coreografia della tribuna degli Ultras di Fabriano una grandissima bandiera per festeggiare questo bellissimo derby Fabriano nel cuore 23 metri per 40 queste le misure che coprono completamente la tribuna del Palasport Guerrieri di Fabriano ecco la squadra pronta per la chiamata sul parquet e da parte dello speaker un'atmosfera di grande festa dall'altra parte invece c'è un buon numero di tifosi di Iesi come dicevamo prima grande rivalità tra queste due squadre nella storia si sono giocati 21 derby 13 ne ha vinti Fabriano 8 ne ha vinti Iesi sono sempre stati molto in equilibrio poi la spallata finale Fabriano l'ha data nei playoff di promozione di due stagioni fa e adesso la curva anzi la tribuna perché di curva è qui non se ne può parlare viene inquadrata nel suo totale una grande coreografia per questo match dei tifosi di Fabriano è un derby molto sentito qua addirittura fuochi d'artificio però quasi da carnevale arrivano coriandoli ovunque anche nella nostra postazione adesso però l'inizio della partita è abbastanza minacciato da questa pioggia di coriandoli passerà del tempo prima che tutto venga pulito comunque è veramente un bellissimo spettacolo alla Palasport Guerrieri di Fabriano in questa sesta giornata del campionato adesso possiamo andare a vedere le due formazioni che scenderanno sul parquet ecco Fabriano che schiererà Morri come play titolare poi il croato Bozzo Baras con il numero 7 Antonio Smith con il 13 il centro poi Simone Flamini abbiamo Enrico Gaeta in quintetto base anche se la cosa ci sorprende abbastanza perché dovrebbe esserci Drew Nicholas che peraltro non si è allenato in questa settimana in modo molto produttivo adesso invece il quintetto della Secchiesi Cucine con Robinson Singleton, Rossini, Mason Rocca e Whiting in panchina Montonati, i fratelli Casini, Peralisi e Blizzard e intanto si cerca di rimettere a posto il parquet ripeto secondo me ci vuole qualcosa di più dei tre minuti che mancano all'inizio della partita gli arbitri del confronto saranno Paolo Quacci e Dino Mastrantoni Paolo Quacci di Pavia Dino Mastrantoni invece di Cisterna di Latina si procede ancora alla pulizia del parquet con qualche difficoltà ci sono parecchi ragazzi ma adesso entrano un po' tutti a cercare di mettere a posto la situazione ovviamente nel corso della gara seguiremo anche l'andamento delle altre partite della sesta giornata di questo campionato di Lega 2 che si sta proponendo a grandissimo livello c'è molto equilibrio ci sono squadre importanti che stanno cercando la fuga come Reggio Emilia e Montecatini però tante squadre pronte ad evitare la fuga di questi due squadroni diciamo che Fabriano era una delle squadre che stava tentando la fuga poi ha avuto queste ultime battute d'arresto ma è una squadra che è ancora lanciatissima Iesi è una squadra che non è partita così bene come ci si aspettava però è una squadra che sicuramente si rifarà e che in questa partita si gioca molto perché in questa partita non è solo un derby è un derby anche a livello di punteggio in classifica è una squadra che se gira Jamal Robinson e Mason Rock Mason Rock è più costante ma Jamal Robinson con grande talento però è un po' più incostante nella sua se no sarebbe un giocatore da NBA quasi tra l'altro caratteristica principale di entrambe le squadre è di andare molto bene a rimbalzo d'attacco abbiamo il miglior rimbalzista d'attacco del torneo da una parte c'è Antonio Smith e il secondo dall'altra parte c'è Mason Rock quindi sotto i tabelloni ne vedremo sicuramente delle belle beh consideriamo che Antonio Smith ha avuto il record di quest'anno addirittura con i 14 rimbalzi offensivi che appunto ha fatto a Scafà quindi è un grande giocatore è un giocatore che fa la differenza in questa squadra 14 rimbalzi offensivi sono veramente una statistica sensazionale non capita davvero tutti i giorni di poterne catturare così tanti intanto si procede sempre alle operazioni di pulizia del parquet che come avevo faccinnente pronosticato durano un poco di più del previsto si stanno usando tutti i mezzi anche i giocatori adesso stanno collaborando c'è perfino il vice allenatore di Fabriano Mauro Procaccini che sta dando una mano solo Rusconi volevo aggiungere solo Rusconi fece nel 99-2000 questo record di 14 rimbalzi offensivi quando giocava nella Deco Milano adesso magari andiamo a vedere anche il quadro totale della giornata oltre alla sfida fra Fabriano e Iesi abbiamo Bipop Carriere Reggio Emilia contro Conald Rimini poi Pavia contro Scafati Andrea Cosaimola contro il Banco di Sardegna Sassari Ferrara contro la Futur Virtus Banca Popolare Ragusa contro il Cimberio Novara Gloria Montecatini contro Garoppoli di Osimo e ovviamente come dicevamo in precedenza vi forniremo man mano i parziali di questi incontri che sono iniziati tutti alle 18.15 una metà campo è già stata pulita l'altra invece è ancora abbastanza indietro nelle fasi di operazioni di pulizia comunque tra un paio di minuti secondo me si dovrebbe cominciare si paga un po' lo scotto dell'atmosfera derby peraltro veramente sicuramente l'atmosfera è molto molto interessante sicuramente questa comunque sarà la partita più bella di questa giornata è la più importante assieme devo dirlo alla Caripe Ferrara che gioca contro la Futur Virtus che è un'altra di quelle partite veramente al punicotone ci saranno si parla di mille tifosi che arrivano da Bologna il record di incassi per Ferrara quindi anche quella una partita importantissima ed è quasi tutto pronto per l'inizio del match fra Fabriano e Iesi Iesi una città sportiva se ce ne fosse una nel panorama italiano è veramente incredibile quanti campioni abbia prodotto questa cittadina marchigiana citiamo i più famosi che ci vengono in mente intanto Roberto Mancini attuale allenatore della Lazio che ha dato un dischetto di spiacere a Luigi oggi vincendo contro Bologna per 2 a 1 vabbè sono cose che fanno male a lui soprattutto poi grandi nomi della scherma come Stefano Cerioni Giovanna Trillini Valentina Vezzali abbiamo detto poco tutta gente che ha vinto almeno un oro alle Olimpiadi a livello individuale poi Giovanna e Valentina ci hanno messo ancora qualcosa di più con le squadre poi in atletica leggera abbiamo anche un Daniele Caimie ottimo maratoneta quindi insomma la concentrazione di sportivi che potrà essere rinverdita ulteriormente anche da Claudia Pigliapoco altra schermitrice che si sta facendo valere a livello giovanile tutto pronto per l'inizio dell'incontro sarà Paolo Quaccia ad alzare la palla 2 Singleton a saltare Nicolas è in quintetto quindi effettivamente tutto nella norma Fabriano che non ha avuto una settimana facilissima parecchi infortuni manca anche un giocatore importante come Tortolini intanto già il primo attacco molto pericoloso per la squadra Fabrianese in un'am e non sono arrivati a prendersi il tiro lo prende guarda caso proprio Drew Nicolas che apre le segnature sul 2-0 incredibile diciamo che in questo momento forse poteva anche tentare di finire da solo e invece ha preferito scaricare su Nicolas perché era libero guarda caso appunto in quel momento James Singleton a replicare subito con il gran rimbalzo offensivo questo giocatore proveniente dall'università di Murray State se noti il bello di Drew Nicolas è anche il movimento che fa senza palla che continua a cercare di fare tagli e questo è importante in un giocatore vedi ha segnato Bozo che è molto un giocatore che stanno molto studiandosi qua a Fabriano perché diciamo che è il meno talentuoso dei due stranieri dei tre stranieri che hanno però è un giocatore che può crescere molto di cui non c'è un gran curriculum che però stanno cercando di stimolare di tenere in quintetto per coinvolgerlo sempre di più nei giochi offensivi e difensivi della squadra intanto palla persa in attacco per Iesi che comunque ha dimostrato una buona mano nell'occasione precedente sbaglia al tiro da tre punti Nicolas il rimbalzo catturato da Whiting che cerca di andare in penetrazione e per qualche istante Morri era riuscito a recuperare palle poteva involarsi in contropiede il playmaker di scuola riminese giocatore assolutamente fondamentale nell'economia della squadra di Fabriano Mauro Morri Morri è un gran difensore e ben lo sanno i migliori play italiani ha avuto nel 2000-2001 la sua miglior stagione a livello realizzativo con nove punti in Serie 1 intanto va a sbagliare il tiro Meso Rocca parte dall'altra parte come un fulmine Drew Nicholas ancora un errore per lui il rimbalzo di James Singleton che è il miglior rimbalzista difensivo del campionato con 8,8 a partita da tre Whiting ancora lungo si sono raffreddate subito le mani dei giocatori che avevano iniziato con un 3 su 3 e adesso a portare palla in attacco è Morri che cede subito a Drew Nicholas la penetrazione e il canestro Drew Nicholas 6 a 2 Fabriano parzialino firmato proprio da questo entusiasmante giocatore di Maryland lo ricordo ancora una volta capocannoniero del campionato con 38,4 punti per partita quindi una bocca da fuoco non da poco vediamo la risposta in attacco affidata a Singleton ancora un tiro sbagliato il rimbalzo di Bozo Barak parte Morri in contropiede c'è grandissimo ritmo nelle battute iniziali del confronto Morri che cerca un'apertura per Flamini che è bravo a raccogliere e evitare la rimessa laterale e la perdita della palla ancora Barak in possesso per Morri che va al tiro da tre lo sbaglia il rimbalzo è conquistato ancora una volta da Jamal Robinson che apre per Alberto Ruppo Rossini Playmaker storico di Cantù 11 stagioni per lui con la maglia della società Brianzola e un buon canestro intanto trovato da Mason Rock un giocatore come dicevi prima Luigi di grandissima solidità è un giocatore di grandissimo spessore è un giocatore che già conosce il nostro campionato e comunque volevo dire una cosa interessante come nonostante i suoi 22 anni Nicolas ha sbagliato gli è stato sputato il tiro dal canestro per ben due per il secondo tiro che si è preso nonostante questo non si è perso d'animo e si è preso subito un altro tiro che gli è entrato con una mano morbida incredibile Jamal Robinson intanto ruba palla e rimette in parità le sorti del confronto siamo nuovamente in equilibrio 6 a 6 tiraccio questa volta di Drew Nicolas molto molto corto pretendono una deviazione i giocatori fabrianesi che non viene segnalata dalla coppia arbitrale Rossini in palleggio per ripartire per la squadra di Magliaverde cioè Iesi Rossini che scarica per Jamal Robinson il fallo fischiato ai danni di Simone Flamini 2 metri e 2 21 anni di macerata proveniente dal vivaio Scavolini Pesaro Ragusa nella sua carriera ti dirò che per Flamini erano un po' indecisi quest'estate se portarlo tra le loro file o meno poi si è rivelato poi una scelta importantissima a Flamini anche se all'inizio è stato preso quasi perché quasi tutti questi giocatori di Fabriano non avevano mai giocato in Europa e quindi c'era bisogno di un giocatore di un qualcosa di un collante per questa squadra e quindi è stato optato Flamini anziché giocatori con passaporto italiano ma di altra nazionalità avete visto intanto un'ottima penetrazione di Jamal Robinson che sta pian piano prendendo confidenza con la partita dopo un inizio freddo ma già due falli subiti per Jamal Robinson che va a segnare il primo tiro libero tre punti per lui uno su uno da due anche un rimbalzo nella sua casolina statistica due su due Iesi in vantaggio 8 a 6 per Jamal Robinson giocatore proveniente dall'università di Virginia nel 1994 è stato inserito anche nel quintetto ideale dell'ACC non esattamente una lega qualunque all'interno del campionato universitario dove gioca tra l'altro anche North Carolina e proprio in quel quintetto c'erano altri due elementi abbastanza interessanti diciamo così Rashid Wallace e Jerry Steckhouse non malaccio intanto bel canestro di Flamini dopo l'ottimo lavoro sulla linea di fondo anzi dalla rimessa laterale di Drew Nicholas 8 pari nuovamente in varietà al punteggio è una partita che sta tenendo fede alle attese vero Luigi? sicuramente tornando al discorso di Jamal Robinson Jamal Robinson è un talento come ti dicevo prima da NBA è solo la sua non continuità nel gioco che gli ha fatto girare un po' tutto il mondo ha giocato in Libano ha giocato un po' nella CBA e un po' ha giocato in giro per il mondo quindi però è un giocatore che ha tutti i numeri per competere ad altissimi livelli effettivamente effettivamente è come possa un giocatore eletto nel quintetto ideale dell'ACC finire in Libano e poi a Cipro è abbastanza inspiegabile però non sarebbe l'unico che la Cipro poi fa il grande salto nell'NBA poi tanti giocatori hanno avuto inizi di carriera difficile e si sono ritrovati cammin facendo Robinson comunque sta giocando benissimo fino adesso se lui è in partita e se sente questo derby sicuramente è un giocatore decisivo sono già sei i suoi punti Iesi nuovamente avanti di due quando mancano cinque minuti e dieci secondi alla fine del primo quarto buona la palla sotto per Smith si gira e tira e sbaglia di un niente Whiting dopo il rimbalzo di Rocca ancora Rocca che va a smistare il gioco riceve nuovamente Robinson va in penetrazione si alza da due va a segnare ancora una volta Jamal Robinson e sono otto punti per lui e non ci sono risposte fino a questo momento per Jamal Jamal Robinson sta prendendo veramente di petto e sulla sua schiena tutta la responsabilità di questo inizio di partita e sta facendosi veramente valere è un giocatore che ha un record personale anche qua in Italia di 27 punti con 7 su 8 da 3 quindi è un giocatore che può anche giocare sul perimetro Nicola Sintanto per Simone Flamini si alza da 3 Morri e va a realizzare facendo saltare per aria letteralmente il pala guerrieri sono i primi 3 punti per Mauro Morri 1 su 2 per lui al tiro meno 1 Fabriano ma c'è ancora Iesi in attacco sempre con Robinson si alza anche lui tiro questa volta è lungo ma c'è il rimbalzo offensivo di Rocca ancora lui si gira abbastanza lentamente comunque riesce a dare il pallone nell'angolo per Alberto Rossini va al tiro da 3 anche Rossini il rimbalzo controllato male nella circostanza da Bozzo Barak e palla persa banalmente in questa circostanza da parte di Fabriano si sono un po' ostacolati Barak e Nicolás mentre alla prima pausa daremo anche risultati dagli altri campi riceve intanto Trenton Whiting il playmaker Bianco Mormone della squadra di Iesi va in penetrazione subisce il fallo di Nicolás non ci saranno comunque i tiri liberi rivediamo la penetrazione di Trenton Whiting questo playmaker di 27 anni Bergamo e Novara per lui in Italia ha avuto una storia universitaria un po' difficile ha cominciato a Utah con coach Rick Maggeros un mito della palacanestro poi non si trovava molto bene è passato a BYU cioè Brigham Young University l'università mormona per l'eccellenza intanto canestro proprio di Whiting l'università diceva mormona per l'eccellenza che nel basket ha visto grandi nomi come Danny Ainge e Greso Cosic se non vale errato nel football per gli appassionati un tale Steve Bianchi che a San Francisco ha fatto un po' la storia dell'NFL ma torniamo al basket con Niesi che tenta di prendere il largo sbaglia Rocca prendere in balzo Barak e poi c'è il fallo di Rossini e questo rischia di essere un fallo antisportivo e quindi di portare in lonetta con due tiri liberi e poi possesso palla per Fabriano su Rio Nicolas sono agganciati due non penso che sia stato volontario del tutto il fallo di Rossini così ampio intanto arriva un po' di tutto invece sul parquet non è comunque fallo antisportivo mi pare questo è un po' brutto però perché qui non è andato sulla palla assolutamente cioè a quando ha visto Rossini poi grande esperienza di Rossini perché voglio dire non è stato un fallo per fargli del male però è uno di quei falli della serie tu a canestro non ci vai effettivamente non c'è andato esatto e poi Nicolas ritorna ad affrontare Rossini uno contro uno questa volta Rossini lo lascia passare la stoppata di Singleton è molto bella da vedere ma non conta nulla perché il pallone ha già toccato il tabellone quindi sono due punti per Drew Nicolas che arriva 4 a 6 con 3 su 5 da 2 e 0 su 2 da 3 comincia a mettersi in moto la macchina Drew Nicolas fino a questo momento servito poco sotto canestro Antonio Smith Drew Nicolas è già un po' nervoso in effetti quello che voleva fare Rossini l'ha fatto Rossini voleva innervosirlo perché se no non riesce a tenerlo in difesa intanto buona penetrazione di Trenton Whiting non vale la schiacciata di James Singleton si riprenderà con i tiri liberi per Whiting sicuramente un ottimo giocatore lo ha dimostrato già nelle due esperienze italiane vissute anche lui magari non troppo spettacolare ma uno di quelli che alla fine i quasi 20 punti a partita te li porta sempre e anche con percentuali piuttosto buone tre punti per lui fino a questo momento è anche una buona direzione della squadra 4 con 2 su 2 ai tiri liberi Nicolás si alza da tre punti corto ancora una volta il suo tiro diventa 0 su 3 la sua statistica parte Rossini in velocità che è sempre stato il suo marchio di fabbrica va a sbagliare il rimbalzo viene conquistato da Antonio Smith che si lancia in contropiede serve ancora Nicolás che in avvicinamento è veramente tremendo però ancora una volta il ferro lo beffa si alza dalla panchina Cinciarini pronto ad entrare per Fabriano poi Singleton in possesso di palla nell'angolo c'è ancora una volta Rossini che cerca e trova Mason Rocca la conclusione dalla distanza di Rossini che scheggia il ferro becca anche i fischi del pubblico di Fede Fabrianese il suo tallone d'Achille è sempre stato il tiro da fuori effettivamente se avesse avuto anche il tiro da fuori diciamo che la sua carriera in azzurro sarebbe stata ancora più luminosa molto più lunga e luminosa è un giocatore che è ottimo nel penetre scarica nei passaggi ai lunghi per il post basso ma non non è sicuramente forte nel tiro dal perimetro si prova Whiting dalla lunga distanza anche lui molto corto tanti errori da tre fino a questo momento per le due squadre uno su cinque per Fabriano zero su quattro invece per Iesi che adesso deve difendersi dall'attacco dalla squadra in maglia bianca i padroni di casa che fanno circolare il pallone per linee piuttosto esterne pallone sotto adesso per Flamini che tenta un assist per Antonio Smith i due non si intendono nella maniera più assoluta palla persa in attacco e una girandola di cambi intanto per Fabriano con l'uscita di Bonzo Barak e di Drew Nicholas anche perché comunque in effetti questa è stata un'ingenuità di Flamini che non doveva dare un passaggio in questo modo perché già il suo compagno stava entrando per prendere il rimbalzo oppure ricevere il pallone sotto canestro intanto è uscito anche Rossini per Iesi al suo posto Brad Blitzard prodotto dell'università di North Carolina Wilmington c'è niente a che vedere con Tar Hills cioè North Carolina normale e North Carolina State un'università minore sicuramente intanto un fischio arbitrale che va a penalizzare la penetrazione proprio di Trenton Wilming Brad Blitzard con un cognome singolare perché sicuramente il marchio blitzard è più famoso per essere una ditta di prodotti sciistici piuttosto che un giocatore di basket ma comunque vediamo cosa ci offrirà questa sera blitzard altro tiro altro tiro da tre sbagliato questa volta da Federico Lestini di 20 anni 2 metri e 2 un altro giocatore sul quale Stefano Cioppi fa molto affidamento Singleton ancora dalla lunga distanza e ancora senza cogliere il bersaglio dovrebbe essere l'ultima azione del primo quarto Smith si invole in contropiede va a sbagliare un tiro piuttosto affrettato mancano 12 secondi questo sarà l'ultimo tiro potrebbe prenderlo blitzard no va a scaricare sotto non c'è neanche qui l'ultimo tiro una serie di pasticci da parte delle due squadre poi Fabriano impiega un po' troppo a ripartire Morri però da una lunghissima distanza per poco non coglie il tiro della domenica finisce il primo quarto con il punteggio di 13 a 16 un primo quarto che era iniziato in maniera spumeggiante in attacco per le due squadre e adesso invece le due squadre si sono molto raffreddate questo è un derby e nei derby le mani calde non abbondano quasi mai beh hanno iniziato le due squadre con molto effervescenti come hai detto tu in attacco dopodiché invece è successo che si sono trovati a difendere di più e hanno seguito dei grandi errori offensivi e adesso la regia di Franco Venditti ci propone gli highlight del primo quarto è un'esercizio Ecco qui le statistiche con la Secchiesi molto produttiva in lunetta con un 6 su 6 un po' meno da 3 tutte e due le squadre 1 su 6, 0 su 6 con percentuali rivedibili 15-9 il parziale rimbalzi e d'altronde la batteria di lunghi di Iesi è sicuramente più fornita alla distanza di quella di Fabriano che ha il solo Antonio Smith a poter lottare sotto i tabelloni Singleton proprio contro Antonio Smith nell'uno contro uno è costretto a scaricare nell'angolo va al tiro dalla distanza Blizzard lo sbaglia si contendono ancora una volta il rimbalzo due giocatori di Fabriano riescono a venirne fuori in questa situazione senza perdere palla Flamini e Smith eccolo qui ancora Smith in possesso lo scambio con Flamini riceve dopo l'uscita dei blocchi Federico Lestini attacco ancora abbastanza involuto decide Nicolas di fare tutto da solo poi arriva l'imperioso canesso di Antonio Smith che corregge il pallone di Briunicolas rimbalzo offensivo e schiaccione per il centro fabrianese 15-16 il punteggio equilibrio davvero fortissimo in questo inizio di partita Robinson si alza da 3 a molto spazio ma c'è già stato un fischio arbitrale per un fallo in attacco commesso dalla squadra di Iesi fallo di Brian Montonati anche lui appena entrato questo centro di 27 anni 2 metri e 5 Colstead Fullerton per un anno 3 invece a Oklahoma State l'anno scorso in Svizzera all'Olympic di Friburgo rimbalzi in attacco intanto di Flamini sul nuovo errore offensivo avevo promesso i risultati alla prima pausa ovviamente ce li siamo un po' dimenticati adesso possiamo dare un'occhiata con Reggio Emilia sotto con Rimini 26-27 quindi partita anche questa molto equilibrata Pavia in vantaggio di 8 44-36 quando mancano 2 minuti e mezzo al termine della prima parte della gara Andrea Costa Imola in vantaggio di 2 punti sul banco di Sardegna per 37-35 Ferrara avanti 27-24 sulla Futur Virtus a 4 minuti della fine del tempo Ragusa in vantaggio su Novara 39-35 Stessa situazione di tempo altra palla persa intanto per Drew Nicholas Quindi tutte partite combattutissime L'equilibrio regna sovrano in Lega 2 Un po' di confusione intanto nel momento in cui stavamo leggendo i risultati Confusione che continua con la palla recuperata da Antonio Smith Non completa il gioco probabile da 3 punti Antonio Smith il fallo proprio di Blitzard Andrà in lunetta quindi con due tiri liberi Antonio Smith che ovviamente non fa della velocità la sua arma principale E quindi c'è il primo time out chiesto dalla panchina di Iesi Con Luigi Cresta che vuole parlare con la sua squadra E vediamo se riusciamo anche a sentirlo Tu sei un po' di confusione Tu sei un po' di confusione Tu sei un po' di confusione Tu sono troppo turni Tu sono troppo turni Non stiamo eseguitando nulla E non stanno facendo nulla In particolare nella giunta per rompere il nostro plato Ragazzi abbiamo togliere Stiamo legando una buona giunta Non stiamo eseguitando in giunta Start per eseggiunghi! Come on! Here we go! allora Luigi sicuramente non ama troppo come sta attaccando la sua squadra le troppe palle perse sta recriminando tutti i suoi giocatori che stanno subendo troppi turnovers ma questo è il problema poi anche di Fabriano in questo momento c'è come dicevi tu appena adesso una gran confusione non stanno eseguendo quello che devono eseguire sia in attacco che in difesa non c'è una difesa aggressiva e in attacco non fanno circolare palla con la velocità con cui dovrebbero e quindi molto spesso ci sono questi turnovers sbaglia il primo tiro libero intanto Antonio Smith era il primo tiro libero tentato da Fabriano nella partita uno su quattro fino a questo momento dal campo per Smith primo libero a segno c'è la parità quota 16 Fabriano e Sicchiesi quando mancano otto minuti e tre secondi da giocare nel secondo quarto un altro fischio che penalizza questa volta la difesa il fallo dovrebbe essere di Daniele Cinciarini se non andiamo a ratti no è di Mauro Morri il secondo fallo di Mauro Morri è un piccolo campanello d'allarme per il riminese che è in testa la classifica degli assist della Lega 2 con 5,6 per partita 13 punti realizzati 4,2 le palle perse forse questo è l'unico problema intanto si riscalda nuovamente Jamal Robinson che va a segnare da due avete rivisto il canestro offertoci dalla nostra regia finita da Treflamini che poi va in penetrazione riesce anche a recuperare il fallo di James Singleton che fino a questo momento non sta incidendo tantissimo né in attacco né in difesa Robinson è il primo giocatore invece ad essere arrivato in doppia cifra con 10 punti 3 su 4 da 2 e 4 su 4 invece ai tiri liberi è un trascinatore veramente si sta comportando come un vero leader un trascinatore della sua squadra intanto ha lasciato il parche Morri per qualche istante gran penetrazione di Nikolas che va fino in fondo ancora una volta beffato dal ferro il rimbalzo è di Blitzard intanto davanti alla nostra postazione si lamenta di qualcosa Stefano Cioppi non abbiamo capito con chi si lamentava io penso recriminasse un fallo in questo caso sulla penetrazione diciamo che difendono molto duro e molto stanno attaccati molto a Drew Nikolas conclusione dalla lunga distanza di Singleton sbagliata il rimbalzo ottimo di Simone Flamini che sta giocando bene a rimbalzo altra penetrazione di Nikolas e questa volta va a segnare il prodotto dell'università di Maryland ancora parità a quota 18 a 6 minuti e 52 secondi dalla fine per Drew Nikolas siamo arrivati a quota 8 con un 4 su 12 in totale dal campo che non è un gran che ma comunque sta sicuramente incaricandosi di buona parte delle trame offensive della squadra fabrianese la penetrazione di Whiting arriva la stoppata che però viene giudicata in maniera fallosa rivediamo il tutto fallo a Flamini secondo fallo per lui in lunetta quindi ancora una volta Trenton Whiting 2 su 2 fino a questo momento nel fondamentale dei tiri liberi diventa 3 su 3 e Iesi torna nuovamente in vantaggio il quinto punto per Whiting ancora dalla lunetta il 27enne play assegno anche in questa circostanza 20 a 18 per Iesi che torna in avanti di due grande alternanza nel punteggio partita ovviamente tutto da giocare finta da tra Drew Nikolas il suo passaggio per Enrico Gaeta il suo primo ingresso su Barcheco la maglia fabrianese torna Fabriano dopo qualche stagione passata in giro per l'Italia ma attenzione perché dall'altra parte c'è un momento che potrebbe risultare decisivo nell'incontro proprio sotto la nostra postazione è sul parquet Drew Nikolas e a giudicare dall'espressione mi sembra che sia qualcosa di abbastanza serio speriamo ovviamente che non sia così vorrei rivedere se abbiamo le immagini caviglia per lui così occhio sembra un problema la caviglia urla di dolore per Drew Nikolas volti preoccupatissimi in casa Fabriano dicevamo intanto di Enrico Gaeta che è stato acquisito proprio in settimana dalla squadra di casa 28 anni romano Cavolini Pesaro per lui all'inizio carriera poi appunto Fabriano Roseto Roseto Viterba vediamo il contatto che ha avuto Drew Nikolas qui Gaeta ha rendato il tiro ovviamente le nostre telecamere loro hanno seguito l'azione fino in fondo dopo lo scarico di Nikolas continua a rimanere sul parquet vediamo se riusciamo a individuare qualcosa di più da questa angolazione è chiaro che ha messo male la caviglia nel suo contatto con Alberto Rossini si si vede un po' si intravede forse non è colpa di nessuno no direi che non c'è nessuna intenzionalità anche se ovviamente gli animi sono accesissimi anche se il pubblico di fatti è incattivito da questa cosa e c'è da dire che tutto sommato è stato anche perché ha avuto come dicevamo è stato marcato difensivamente veramente a uomo ma come incollato erano raddoppiavano lo raddoppiavano quindi qua c'è stato un piccolo contatto e lui si è stotto la caviglia quindi Fabriano deve fare a meno del suo cannoniere prova a rimettere le cose a posto Daniele Cinciarini Nikolas ovviamente è stato portato negli spogliatoi gli sarà applicato presumibilmente un vendaggio rigido vedremo se riuscirà a tornare al più presto sul parquet ovviamente ce lo auguriamo dal punto di vista dello spettacolo la partita chiaramente ne perde poi magari Fabriano proprio per questo motivo riesce a ritrovare ancora maggiori energie però quando giochi senza il tuo miglior giocatore non è così comoda la situazione intanto sbaglia il secondo tiro libero Cinciarini recupera comunque palla in attacco la squadra di casa con Antonio Smith se non andiamo errati Morri in palleggio ancora per Cinciarini servizio sotto per Antonio Smith che deve confrontarsi con Montonati lo supera brillantemente Fabriano va in vantaggio con il bel canesso dal campo di Antonio Smith che tocca quota 5 2 su 5 fino a questo momento per lui ma comincia ad essere un fattore della partita Antonio Smith che da adesso in avanti dovrà definitivamente svegliarsi tiro corto intanto di Jamal Robinson rimbalzo d'attacco per Jesi che va a perdere palla e quindi proprio con Brian Montonati pronto ad entrare sul parquet James Singleton ecco Morri in palleggio intanto a barcare la linea di metà campo 5 minuti e 30 secondi circa da giocare nel secondo quarto ancora Smith che va molto bene a giocare sotto canesto grande movimento di Antonio Smith 23 a 20 abbiamo chiesto a Smith qualcosa di più fino a nel match lo ha chiesto evidentemente anche Stefano Cioppi e si è svegliato improvvisamente dopo un momento di difficoltà in attacco adesso è diventato il perno della squadra con 7 punti e anche il secondo cannoniere dopo ovviamente Triunicolas che era arrivato a 4-8 il fallo di Barak intanto e ci sono i tiri liberi per Iesi anzi il fallo di Antonio Smith è il primo fallo della sua partita sicuramente in questo momento Fabriano deve reagire perché il loro miglior realizzatore fuori a questo punto sicuramente l'allenatore avrà cercato di infondere un po' di fiducia e di cercare di responsabilizzare magari altri giocatori molto di più Smith sta facendo del suo sta difendendo molto aggressivamente molto fisicamente vedremo se anche Barak Bozo sotto le plance riuscirà a far valere quella fisicità che dovrebbe far valere un po' di più forse intanto per la terza volta due giocatori di Fabriano sono andati a contendersi il rimbalzo e il risultato palla ancora nelle mani di Iesi si è spento invece il tabellone dei 24 secondi e questo è probabilmente il motivo per il quale è stato fermato il gioco c'è anche il fallo di Daniele Cinciarini quarto fallo di squadra per Fabriano stessa situazione per Iesi dalla prossima infrazione quindi si andrà in lunetta per entrambe le squadre prova la penetrazione sulla linea di foto Robinson riesce a scaricare in qualche maniera va a prendersi un buon tiro Whiting lo sbaglia il rimbalzo di Morri che parte in contropiede cerca di sfruttare la sua velocità sicuramente la sua arma migliore ancora Morri in palleggio gran palla per Barak gran canestro di Fabriano 25 a 21 anche Barak in partita il secondo canestro dopo quello realizzato proprio in apertura più 4 Fabriano è stato un taglio bellissimo di Barak che finalmente fa un po' di movimento e Morri non se l'è fatto dire due volte ha subito fatto un assist bellissimo Iesi che si affida un po' troppo forse al tiro perimetrale ancora un rimbalzo perso dalle mani di Fabriano con Antonio Smith più 4 Fabriano con Jamal Robinson in palleggio per Iesi palla fuori per Trent Whiting in palleggio insistito cerca di superare Daniele Cinciarini va in penetrazione Whiting appoggia il ferro sbaglia questa volta il rimbalzo è catturato da Morri che si sta facendo sentire anche sotto i tabelloni play di 1,90m quindi di più che discreta statura va a affrontare in uno contro uno Whiting mette la palla nelle mani di Antonio Smith che non controlla forse c'era stato un tocco di singleton difficile valutare per noi c'è comunque un time out tutte e due le mani sono arrivate sul pallone la possibilità di dare l'aggiornamento dagli altri campi o forse andiamo ad ascoltare il time out si andiamo ad ascoltare il time out mano 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 we use the screen to go inside Bozo e Antonio again Maison Rocca but Cincia guy fake also fake to pass inside and go drive they have bonus so we go for foul shot hai capito Cincia Cincia Whiting marcagli la mano destra ritorna a destra hey don't give up on that rebound tutti a rebound si praticamente qui si stanno sta chiedendo sta diventando altamente strategico a questo punto in gioco da parte di Fabriano e Cioppi ha chiesto di fare di lavorare molto sui blocchi e di barcare whitening appunto sulle penetrazioni sulla destra come avete sentito poi parziali dagli altri campi con Reggio Emilia e Rimini 31 pari alla fine del primo tempo i primi due quarti ovviamente Pavia 46 Scafati 36 Andrea Costa Ivola Banco di Sardegna 38 a 40 Ferrara Futur Virtus 39 a 35 Ragusa Ragusa a un minuto dal termine avanti di 8 su Novara 48 a 40 il punteggio a questo punto la difesa di Fabriano è riuscita a guadagnarsi uno sfondamento vedi cercando di preparare Bozzo sul perimetro Robinson da 3 sbaglia il fallo però sotto canestro che dovrebbe punire la squadra di casa aveva preso una gran posizione al rimbalzo Mason Richard Rocca che è lo ripetiamo ancora una volta il secondo rimbalzista offensivo del campionato questo prodotto di Princeton un'università dove di solito non si va solo a giocare a basket anzi a un'università dove si studia e parecchio lui è laureato in ingegneria con me il padre e Luigi dov'è che ha studiato il padre in un'altra università abbastanza interessante dal punto di vista accademico e cioè Harvard quindi insomma una famiglia quotata ah certo no Mason Rocca è non solo un grande giocatore ma come hai detto tu uno che ha studiato molto ha poi giocato nell'IBL a Trenton Stars con giocatori che abbiamo già visto in questo inizio di stagione come Alvin Yang a Reggio Emilia e comunque anche il Lamar Greer che ha giocato a Napoli intanto Mori scarica per Barak il croato dimostra di avere un'ottima mano dalla lunga distanza 28 a 22 non era il protagonista atteso Barak di questo match ma sta facendo molto bene intanto va a togliere il pallone dal canestro letteralmente Antonio Smith canestro valido però per la squadra di Iesi quindi due punti per il 28 a 24 è incredibile come stanno già reagendo hai visto Pietro cioè la difensività di questa squadra il gioco in difesa veramente sta dando i suoi frutti diciamo che paradossalmente Fabriano sta giocando meglio adesso che non c'è più Drew Nicholas che prima però è un discorso che ha la lunga però non so quanto passereggere sicuramente a volte succede time out intanto abbiamo ancora qualche istante per arrivare con il nostro microfono all'interno del time out eccolo qua ok ori è completamente open inside di il pane ora siamo fortunati hai fatto una buona rotazione ma slide to la line of la line ok be careful on that guys all the action on offense like the shot you got and guess what we got the offensive rebound ok feed the pause much more 1 1 down and 4 to give the ball inside here we go iamo beh praticamente qui stava stava dicendo Gresta di cercare di avere comunque sempre un uomo a rimbalzo quando ci si prende i tiri ottime rotazioni e sempre 4 uomini sull'esterno e un uomo dentro quando quando ci si prende il tiro stare molto attenti quindi sui rimbalzi offensivi in pratica inquadratura per il pubblico di casa che si sta facendo decisamente sentire qui arriva il fallo in attacco di schiato a fallo numero 13 Antonio Smith in una zona di parquet che noi in realtà non siamo riusciti a coprire con i nostri occhi quindi non l'abbiamo visto assolutamente eravamo concentrati sull'azione di Morri tutto sommato meglio così per Fabriano perché sarebbe stato il terzo fallo di Morri sarebbe stata una pessima notizia vista la situazione Singleton va a prendere bene posizione sotto canestro poi cerca di organizzarsi un tiro lo ferma Barak un tiro in controtempo praticamente terzo fallo di Bozzo Barak situazione falli pesante per la squadra in maglia bianca soprattutto perché la rotazione a disposizione di Stefano Cioppi è quella che è è molto pesante sicuramente avere Drew Nicholas fuori e avere Barak appunto forse l'unico grosso centro di spessore che può dare fisicità all'interno già con tre falli e non è ancora finito il primo tempo crea dei problemi sicuramente a Cioppi intanto Singleton sporca le percentuali dall'alunetto della sua squadra che scendono al 10 su 14 da tre prova Enrico Gaeta ancora una volta non c'entra il bersaglio dall'altra parte è Blizzard che va a venturarsi in contropiede il suo scarico è direttamente per i cartelloni pubblicitari e direi che Iesi in attacco in questo secondo quarto è molto ma molto deficitaria altro time out chiesto in questo finale di tempo quando mancano un minuto e 38 secondi all'intervallo andiamo a sentire senza chiamare Mauro Antonio Mauro attacco Antonio e Gaes salta fuori Gincia qui Gincia qui ok Simo di qua oh oh poi poi quando viene giù Mauro giochi corna allo stesso modo no no ok mano now mano poi giochiamo corna come ho detto poi giochiamo corna come ho detto aspetta quando ricevi la penetra sul fondo dei pistas sul centro fin di un passato se c'è mettila dentro lo pentas fuori se la toglie viene fuori prima opzione ovviamente Morri per il taglio di Smith poi grande attenzione anche ai movimenti di Cingarini nell'angolo esatto time out molto offensivo ovviamente anche perché Fabriano è in possesso di palla vediamo un po' cosa succede in questa fase finale del secondo quarto con Antonio Smith che fronteggia Rocca prende un tiro da due lo sbaglia completamente gran rimbalzo di Gaeta che tiene vivo il pallone Cingarini in possesso palleggio di sinistro e poi scarica per il play Morri l'organizzatore di gioco sfrutta bene il blocco di Gaeta che si allarga manda letteralmente per aria il proprio avversario poi non prende il tiro va in penetrazione commette il fallo su Mason Rocca che è stato bravissimo mantenere posizione sotto canestro rivediamo il tutto perfetto direi Mason Rocca che porta a caso lo sfondamento grande mestiere questa volta di Mason Rocca si lamentava un po' ma in realtà qui il fallo c'era tenta anche un po' di pressione in attacco no è soltanto Gaeta che forse ha interpretato male quanto detto nel time out precedente si torna a una difesa più convenzionale Rossini per Singleton da questi sotto canestro la palla arriva Rocca dopo aver transitato per le mani di Whiting il tiro preso ancora da James Singleton altro fallo commesso dalla squadra di casa e cioè da Federico Lestini primo fallo per l'ala di 2 metri e 2 e possibilità di andare in lunetta per Singleton fino a questo momento non una gran partita per James Singleton sei rimbalzi sono il dato migliore qui va a segnare il suo primo tiro libero portandosi a quota 4 anzi scusate ma quota 5 infatti ha un 2 su 3 da 2 sbaglia il secondo tiro libero il rimbalzo di Antonio Smith penetrazione errore ancora da parte di Lestini questa volta il rimbalzo è conquistato da James Singleton rimbalzo numero 7 mentre per Smith quello in precedenza era il quinto Mason Roca prende bene posizione con il gancio sinistro va a realizzare due bellissimi punti riportando Iesi a meno 1 28 a 27 e adesso assistiamo all'ultima azione offensiva del periodo con Fabriani in attacco Morri in palleggio lascia scorrere il tempo quando mancano 8 secondi alla conclusione va al tiro da 3 punti piuttosto forzato il ferro non gli dà una mano gliela danno invece gli avversari mandando il pallone sul fondo Robinson non è riuscito a controllare rivediamo il tiro da 3 si spegne sul secondo ferro buona la rimessa buono anche il movimento il canestro di Daniele Cinciarini che allo scadere mette a segno questo ottimo canestro da 3 punti il piede è rimasto fuori dalla linea proprio per qualche millimetro un canestro importantissimo che ha fatto saltare per aria la parte di Fede Fabrianese soprattutto Stefano Cioppi si va all'intervallo con il punteggio di 31 a 27 e diamo subito la linea a Roma per uno stacco pubblicitario poi la riprenderemo qui da Fabriano abbiamo anche preso accordi con i due allenatori per venire alla termine dell'intervallo nella nostra postazione mentre ricordiamoci alcuni dei momenti più spettacolari di questo incontro che effettivamente da un punto di vista strettamente spettacolare prometteva qualcosa di più però la tensione del derby ha giocato qualche brutto scherzo comunque l'intensità non manca ed è una partita da seguire fino in fondo sicuramente non solo la tensione del derby ma anche il problema della mancanza di punti di riferimento tutto in un momento la mancanza di Drew Nicolas e quindi se ci hai fatto caso praticamente è diventato il punto di riferimento a quel punto giocatori come Cinciarini o Morri che magari erano giocatori che passavano in secondo piano ha cambiato praticamente tutta l'inerzia della partita e per adesso sta comunque tenendo in partita Fabriano Iesi sta facendo un po' di confusione in attacco non riesce a registrarsi sulla difesa zona che sta giocando Fabriano e quindi riesce a rimanere in partita ma intanto vedo che sta arrivando comunque l'allenatore di Iesi Luigi Gresta abbiamo quindi Luigi Gresta vediamo se possiamo offrirgli un microfono forse è meglio che gli cidi la tua cuffia perché a questo momento non riesco a vederla intanto lo ringraziamo molto per essere venuto cosa cosa non ha funzionato per Iesi in questo primo tempo soprattutto in attacco non siete stati molto fluidi si esattamente in attacco non siamo stati fluidi siamo usciti dai giochi siamo usciti dai giochi per nessun motivo ecco di conseguenza abbiamo preso tiri fuori equilibrio quindi tiri a bassa percentuale e direi che appunto il problema sta lì difensivamente parlando invece abbiamo fino adesso espresso una buona difesa dobbiamo cominciare ad essere più fluidi in attacco per cercare di portarci a Iesi la partita l'infortunio di Drew Nicolas da un certo punto di vista si ha addirittura complicato le cose perché Fabriano da quel momento in avanti ha giocato meglio però alla lunga potrebbe essere un fattore favorevole per voi l'hai detto tu anche se ovviamente un giocatore un giocatore così penalizza può penalizzare una squadra perché è il primo terminale offensivo dobbiamo entrare in campo pensare a noi stessi e pensare di fare un buon attacco perché il problema non era in difesa di conseguenza sia quando c'era Nicolas che quando non c'era la difesa era di buon livello il problema è in attacco quindi il nostro problema deve essere risolto là dobbiamo stare attenti ad eseguire meglio e a non fare tiri fuori equilibrio e da bassa percentuale grazie mille ti lasciamo andare in panchina per il secondo tempo e ci ha raggiunto anche Stefano Cioppi che dotiamo di microfono intanto come sta Nicolas credo che abbia fatto una forte distorsione nella caviglia per stasera e fuori per informazioni più dettagliate dobbiamo aspettare la fine della partita un infortunio che ovviamente condiziona la vostra gara anche se avete risposto meglio come dicevo a Gresta proprio dopo l'infortunio di Nicolas avete sicuramente aumentato il vostro rendimento ma Nicolas è il nostro terminale offensivo è il miglior marcatore della Lega 2 sta viaggiando con quasi 35 punti a partita è chiaro che il nostro attacco potrebbe risentirne però è una settimana che ci alleniamo senza di lui per un altro problema e quindi diciamo gli altri soprattutto in una partita così strana come un derby penso che possono avere molte motivazioni per sostituirlo ho notato che quasi tutti i giocatori comunque si sono presi le loro responsabilità addirittura Cinciarini con quel tiro alla fine da tre punti che ha ridato speranza e grinta e cuore che tra l'altro stava avendo fino a quel momento Fabriano e lo stesso Bozzo che è un giocatore su cui magari che ha cominciato un po' in penombra questa stagione e che invece ha fatto delle cose belle in questa partita si soprattutto in difesa credo che la squadra abbia si sia unita e abbia giocato con lo spirito giusto questa partita cercando di limitare il potenziale offensivo di Iesi partecipando tutti e cinque a rimbalzo visto che loro hanno due grandissimi rimbalzisti come Singleton e Rocca adesso se è vero che queste partite speciali danno delle sensazioni particolari spero che anche per i prossimi venti minuti tutti abbiano voglia di combattere come prima loro soffrono un po' la vostra difesa zona mi sembra ma per ora non abbiamo giocato zona nella fase che avevate una zona mista ma no abbiamo sono in campo magari a volte quattro piccoli perché Gaeta Flamini e Lestini giocano da quattro ma non sono dei veri propri quattro quindi loro possono mostrare sembra può sembrare una zona per la loro presenza magari anche perché fanno dei cambi sistematici però per ora abbiamo giocato solo a uomo si va bene grazie mille buon lavoro anche a Stefano Cioppi giovanissimo tra l'altro allenatore di Fabriano con 31 anni soltanto quindi davvero un allenatore che ha già maturato delle esperienze importanti in casa Scavolini lo scorso anno soprattutto con il finale di stagione peraltro non particolarmente facile da gestire per la squadra pesarese sicuramente ripartito con una squadra tra l'altro qui che tutti davano per perdente in questo in questo inizio di campionato in questa Lega 2 diciamo che Fabriano poi ha avuto un'estate molto molto difficile molto travagliata gli era stato offerto anche di ritornare in A1 di prendere il posto in A1 al posto di Messina poi invece è successo che Fabriano non aveva le risorse assolutamente per fare questo campionato in A1 e faceva già fatica a farlo in A2 e quindi ha preferito fare un campionato mediocre in A2 invece sta facendo un campionato di grande livello in A2 ecco sta rientrando Nicola che torna sul parquet ma più che altro torna per incitare i compagni in questo in questa seconda parte dell'incontro davvero un peccato perché avrebbe regalato un grande spettacolo Drew Nicola Fabriano deve fare di necessità virtù e quindi deve giocare fino in fondo questa partita speriamo ovviamente che non si tratti di nulla di serio in prospettiva perché questa è una squadra costruita molto su Nicola se perderlo per parecchio tempo significa davvero un grosso sacrificio anche dal punto di vista economico per la società fabrianese sicuramente mancano due minuti circa all'inizio del della parte più importante dell'incontro anche però vedi il suo rientrare così il volere dimostrare che comunque lui c'è ancora e questo è per dare proprio anche carica a tutta la squadra quindi questo ragazzo ha anche grande cuore sicuramente è una grande dimostrazione non esistono solamente gli stranieri mercenari evidentemente c'è gente ancora che ama questo sport vuole rimanere attaccata alla squadra anche in un momento dove obiettivamente non può dare molto se non fare il tifoso dalla panchina aggiungersi al pubblico praticamente però è una presenza che sicuramente i suoi compagni sentiranno questi sono ancora una volta i tifosi fabrianesi dall'altra parte invece in favore di telecamere ci sono quelli di Iesi una bella atmosfera comunque qui al Palazzo Sport ottima il palazzo praticamente ha il tutto esaurito questa sera ed eccoci tutto sommato tutto sommato comunque sta andando su livelli buoni non ci sono state violenze ci sono i cori i soliti sfottò ma nulla di nulla di drammatico speriamo si va davanti così fino in fondo intanto siamo pronti con il secondo tempo più quattro Fabriano si parte così con Antonio Smith a saltare da una parte e James Singleton dall'altra palla finisce nelle mani di Fabriano con Morri quindi che può gestire il primo pallone offensivo del terzo quarto Flamini sotto per Antonio Smith che prende bene il tempo a Singleton poi si butta dentro e subisce il fallo forse di Rocca o in collaborazione con Singleton il fallo probabilmente è di Singleton da dietro è il secondo fallo di James Singleton lunetta per Antonio Smith che fino a questo momento ha uno su due da quella posizione che diventa uno su tre soltanto cinque tiri liberi tirati da Fabriano nell'incontro non con grandi percentuali siamo al 40% che scende ulteriormente però Smith rimette a posto la situazione andando a prendere un gran rimbalzo va nuovamente a sbagliare parte il contropiede di Whiting l'apertura lunga per Robinson che cede a Rossini la penetrazione di Rocca su Barats che è gravato di tre falli ben fatto dal ferro Rocca rimbalzo di Flamini parte il contropiede Fabrianese che poi si ferma con Morri che comunque va fino in fondo Morri scarica molto avventurosamente per Cinciarini Cinciarini ancora al tiro il rimbalzo conquistato da Jamal Robinson per Iesi Rossini in attacco per Trent Whiting Whiting in palleggio controllato da Flamini la possibilità per Robinson di andare all'uno contro uno prende molto bene il tiro da due ed è il primo canestro anzi da tre scusatemi Jamal Robinson il canestro importantissimo si sblocca un po' a Robinson che da qualche tempo non andava a realizzare arriva a quota 13 è assolutamente il top score del confronto la Sikiesi è a meno uno Barak nell'angolo molto bene per Flamini che ha tanto spazio per andare alla conclusione da tre punti la va a sbagliare il rimbalzo è conquistato per un attimo da Antonio Smith poi c'è una deviazione di un giocatore di Iesi che consente alla squadra di casa di giocare nuovamente in attacco è passato un minuto e venti secondi dall'inizio del terzo quarto palla persa in attacco per Fabriano si butta in avanti a tutta velocità Robinson che chiude splendidamente il suo cost-to-cost vantaggio Iesi 32-31 e sono 15 punti di Jamal Robinson sui 32 totali della sua squadra siamo vicini al 50% totale della produzione offensiva Morri in palleggio per Flamini molto fuori Flamini va al tiro viene stoppato dall'uscita di Singleton se non andiamo errati Rossini per Whiting la deviazione difensiva di Cinciarini e arriva il timeout immediato di Stefano Cioppi timeout quanto mai opportuno bravissimo comunque nel rientro della circostanza Cinciarini e andiamo a sentire il timeout di Cioppi calmi abbiamo preso tiri ottimi siamo andati a rimbalzo d'attacco va bene be calm was open shot was ok I wanted we run back till the pain stiamo bilanciati e non li facciamo correre the key don't let him transition ok in attacco in attacco su mano andiamo in motion also motion is ok with mano ok let's go motion ok and play consistent till transition di eh andiamo adesso contento tutto sommato di come stanno attaccando si sta chiedendo di non fare di non fare correre troppo Iesi e quindi di cercare di di anticipare sui passaggi e di evitare appunto i turnover e i contropiedi contento invece della scelta dei tiri che sono usciti però sicuramente alcuni sono stati presi con ecco qui in questo momento vedi stanno facendo una difesa molto più stretta Flamini non riesce a conquistare il rimbalzo contro Rocca che fa un vero e proprio miracolo per trattenere il pallone in campo ancora in palleggio Whiting il suo tiro l'errore il rimbalzo di Flamini che lo strappa due compagni di squadra sono già sette i rimbalzi di Rocca sono due invece quelli anzi sette quelli di Flamini sei difensivi sta giocando sicuramente una gran partita in difesa Simone Flamini non è stato altrettanto produttivo in attacco Fred Whiting al secondo fallo intanto secondo fallo di squadra Iesi nel terzo quarto riceve intanto Morri lo scambio con Antonio Smith che fronteggia il canestro e commette infrazione di passi non sicuramente un centro elegantissimo Antonio Smith più che altro un gran ribalzista le sue qualità offensive nell'uno contro uno non sono certo strabilianti è comunque un giocatore importante nell'economia della squadra di coach Cioppi che vedete inquadrato esce dai blocchi intanto Robinson da tre sbaglia Robinson il rimbalzo di Cinciarini che sta dando comunque un buon contributo alla sua squadra adesso si incarica anche di gestire l'attacco mantiene il possesso palleggiando forse un po' troppo poi trova Barak nell'angolo c'è l'entrata di Flamini ancora Barak si alza da tre punti il croato va a sbagliare rimbalzo conquistato da Flamini che però è l'ultimo a toccare secondo il giudizio arbitrale e se dall'altra parte non ci sentiamo di mettere in dubbio la decisione e quindi si riparte proteste comunque molto contenute da parte Fabrianese 6.51 Fabriano non ha ancora segnato in questo terzo periodo Rocca sotto canesso contro Barak che può soltanto guardarlo avendo tre palli qui va a recuperare il rimbalzo e poi c'è un fallo chiamato da Antonio Smith dopo che Barak aveva già conquistato il rebound Morris cambia qualche occhiata dietro la nostra postazione che è dominata tra i 2.14 giù di Lidiaria Costa questo è stato un po' sbracciata di Antonio Smith e quindi è stato chiamato questo fallo forse un po' troppo fiscale sicuramente fiscale la decisione anche se probabilmente corretta rivediamo ma insomma io non l'avrei fischiata rivista così poi vedere la velocità naturale è tutta un'altra cosa è caduto quasi perché era fuori equilibrio sì sì non mi sembrava che ci fosse un contatto pazzesco però c'è un'intensità difensiva adesso anche maggiore da parte di Fabriano intanto Whiting al tiro da 3 lo va a sbagliare ancora un rimbalzo difensivo di Flamini ma riapre il contropiede per Antonio Smith che non può raggiungere questo passaggio stile football manca la ricezione quindi Fabriano che va a perdere palla rivediamo il tutto era in anticipo tra l'altro Stanton Whiting che ha difeso da Vera Strong Safety e intanto andiamo a vedere l'attacco di Iesi con Rossini in palleggio fallo in attacco questa volta chiamato a Iesi probabilmente per un blocco illegale di Singleton no è Whiting l'autore del fallo 6 e 12 ancora più uno Iesi è il terzo fallo di Trent Whiting non abbiamo ancora visto i fratelli Juan Marcos e Guillermo Casini per la Sicchiesi due Italo-Argentini Morri in palleggio fronteggiato da Rossini che gli sta concedendo pochissimo Rossini è un difensore micidiale Barak per Flamini va in uno contro uno con Robinson non prende il tiro scarica fuori per Smith che ha una dinamica di tiro guardabile veramente sbaglia Smith Robinson prende molto bene il tempo Robinson va a sbagliare Smith cerca di farsi perdonare sotto il suo tabellone lotta disperatamente per conquistare questo rimbalzo non ci riesce sicuramente in difesa sta giocando alla grande Antonio Smith sta giocando bene anche Barak poi Smith qui si è tuffato ma non è riuscito a mantenere il proprio piede prima della linea ancora Rossini non si segna da una vita Blizzard Singleton Singleton si alza gira molto bene sul piede perno e va a sbloccare la situazione con il suo settimo punto l'unico che ha una percentuale adeguata al 75% da 2 Giesi tira con il 34 da 2 con l'11 da 3 e il 29 totale però è in vantaggio adesso accorcia le distanze Antonio Smith segnando il suo nono punto per lui il 40% dal campo fino a questo momento le percentuali sono bassissime per entrambe le squadre buono i passaggi intanto di Blizzard per Robinson che trova un'autostrada davanti a sé e va a segnare due punti importanti che riportano a più 3 Giesi quando mancano 4 minuti e 50 secondi per Jamal Robinson sono 17 i punti realizzati fino a questo momento ancora Smith a lottare sotto i tabelloni a conquistare spazio il fallo di Singleton nuova possibilità di andare ai tiri liberi per Antonio Smith non è esattamente una buonissima notizia peraltro per Fabriano perché Smith fino a questo momento ha un 1 su 4 non molto pregevole Antonio Smith è un grande rimbalzista è un giocatore che può giocare nel correggere i tiri a canestro ma non ha delle grandi mani è un giocatore che quando realizza molti punti li realizza appunto con tap-in seguendo il tiro dei propri giocatori la dinamica del suo tiro precedente ce l'aveva dimostrato peraltro grandi giocatori con tiri stilisticamente rivedibili hanno fatto la storia del gioco quindi non vuol dire nulla avere una meccanica non bella va a segno questo primo tiro libero questo gli è entrato veramente ma era un tiro fuori diciamo che ha preso le trida a Shaquille O'Neal per quanto riguarda i tiri liberi questo era già meglio ci ha contraddetto comunque 2 su 2 importantissimo 35 a 36 meno 1 nuovamente per Fabriano grandissima pressione adesso sui portatori di palla palla che arriva Rocca che cerca e non trova il proprio compagno sotto canestro che era Blitzar aveva tagliato in mezzo all'aria grande cincialini veramente abbiamo rivisto nel replay offertoci dalla regia penetrazione di Morri il fallo di Whiting anzi di Brad Blitzar scusate due si assomigliano abbastanza buona la partenza di Morri sono due tiri liberi questi per Fabriano che ha già costretto Iesi a commettere 5 falli in questo terzo quarto è stato trattenuto da Blizzard che aveva praticamente perso il primo passo di Morri in penetrazione era un canestro facile per lui Morri che fino a questo momento ha già totalizzato 3 assist oltre a 3 punti va a sbagliare però il primo tiro libero della sua partita 1 su 5 dal campo 0 su 1 dalla lunetta diventa 0 su 2 lui di solito tira sicuramente meglio rispetto a Antonio Smith ma oggi è una partita tutta particolare è un derby Fabriano lo gioca senza Drew Nicholas adesso deve fronteggiare il tiro da 3 punti di Brian Montonati che va a mettere il più 4 per la la sua squadra un canestro importantissimo per il prodotto di Oklahoma State Morri in falleggio finta al tiro da 3 lascia spazio a Gaetaca grande mano da quella posizione e non sbaglia di nuovo meno 1 le due squadre rimangono sempre a contatto il che ci garantisce grande emozione fino al termine della partita fallo in attacco intanto commesso da Whiting anzi da Rocca scusatemi un fallo in attacco che blocca l'offensiva ovviamente di Iesi e andiamo a vedere i risultati dagli altri campi con Reggio Emilia in vantaggio di 5 su Rimini 54-49 ha preso Largo Pavia su Scafatti 73-55 Imola sotto di 10 contro il Banco di Sardegna Sassari 64-74 Futur Virtus avanti di 5 a Ferrara 72-67 mantiene 10 punti di vantaggio Ragusa su Novara 61-51 ma la partita è abbastanza in ritardo rispetto alle altre che sono tutte nell'ultimo periodo siamo soltanto al sesto del terzo invece a Ragusa 3 minuti e 20 invece qui da giocare 38-39 Gaeta si sarà sicuramente sbloccato dopo questo canetto realizzato qui invece c'è un'infrazione di 3 secondi se non ho interpretato male con Antonio Smith che era stato pescato perfettamente proprio da Enrico Gaeta le proteste della panchina di Fabriano e del pubblico sono 11 anzi 10 le palle perse da Fabriano contro le 11 recuperate Montonati ancora in possesso di palla Whiting si palleggia sui piedi torna indietro qui si discuterà più all'ultimo se c'era o meno il possesso per Montonati guarda comunque è una difesa intensissima tutto campo quasi un pressing difensivo incredibile che sta facendo Fabriano in questo momento un po' di pallavolo che viene risolta da Rocca che va a trovare un canestro pazzesco di importanza vitale arriva un po' di tutto per la verità sul parco di Chiarini di carta gettati dal pubblico fabrianese è stata un'azione in cui Fabriano ha avuto per due o tre volte la possibilità di prendere il contatto con il pallone definitivamente ma non c'è riuscita e sono canestri che si pagano e non poco abbiamo rivisto invece la situazione precedente con il ritorno nella propria metà campo da parte di Trenton Whiting continua ad allenare però Stefano Cioppi non vuole farci perdere il momento ma arriva a cercare di spiegare al pubblico che non è il caso di lanciare roba sul parquet secondo fallo intanto di Enrico Gaeta un canessi importantissimo quello di Meso Rocca che arriva a quota 7 è il suo quarto fallo subito nell'incontro fino a questo momento anche 10 rimbalzi per lui dei quali 7 offensivi niente male non è stato brillantissimo da vedere ma sono numeri che contano i suoi intanto finalmente si dovrebbe riuscire a tirare il libero l'inquadratura in primissimo piano per Rocca terzo anno a Jesibar questo centro di 26 anni abbiamo già detto della sua laurea in ingegneria a Princeton vediamo se si riesce ad andare al libero mentre Stefano Cioppi sta colloquiando con uno dei due arbitri in particolare Dino Mastrantoni colloquio peraltro civilissimo si sta asciugando il parquet in mezzo al campo evidentemente qualcuno ha avuto la pensata di tirare un bicchiere pieno dalle tribune io ricordo anni fa tirarono sul campo in un derby skipper Virtus tirarono un bicchiere di Coca-Cola sul campo praticamente ci volle io penso 15-20 minuti per tirar via tutto l'appiccicoso anche si poteva dare il via ad una escala di patinaggio artistico volendo con la Coca-Cola sopra si scivola con piacere e intanto va a segnare Rocca il tiro libero supplementare è stato molto bravo a mantenere la freddezza per tutto questo tempo 42-38 il punteggio per Jesi che è avanti di 4 Smith cerca di trovare spazio sotto Canesso poi va alla conclusione dall'angolo non trova assolutamente la via del Canesso si rialza dalla panchina Barack pronto a rientrare sul parquet magari proprio per dare un minimo di riposo a Smith Whiting in possesso quando mancano 11 secondi per andare al tiro lo prende Robinson lo sbaglia grandioso rimbalzo di Smith che ripeto dal punto di vista tecnico non sarà un fenomeno ma da quello fisico fa veramente impressione grandissimo rimbalzo per lui arriva a quota 10 5 difensivi e 5 offensivi la penetrazione di Morrie che subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi Brian Montonati probabilmente per il fallo colpito infatti sulla mano Morrie Smith come vedi è un giocatore di grande sostanza segue anche nelle penetrazioni Morrie pronto a cogliere il rimbalzo ed entrare in tap-in o per creargli degli spazi addirittura dei blocchi Montonati al quarto fallo panchina effettivamente per Antonio Smith l'inquadratura per Luigi Grezza chiamare la sua squadra segna intanto Morrie il primo tiro libero del suo incontro 1 su 3 la sua percentuale sono 4 punti 3 assist 4 rimbalzi fino a questo momento per Morrie diventano 5 Fabriano è sempre lì comunque 40 a 42 2 minuti da giocare scarsi nel terzo quarto Robinson finta poi va in penetrazione il fallo di Gaeta è il terzo fallo per lui rivediamo il fallo netto di Gaeta sulla tentativa di penetrazione di Jamal Robinson che sul primo passo gli prende quasi sempre il tempo è difficile contenere Jamal Robinson nettamente fino a questo momento il top scorer dell'incontro Whiting viene mandato a destra Rossini una posizione molto lontana da Canetto si avvicina invece a Rocca il fallo di Barak proprio sotto i nostri occhi un fallo gravissimo è il quarto fallo di Barak ed è già tempo per Smith di rientrare sul parquet eccolo qui il quarto fallo segnalato dalla grafica per Bozzo Barak che lascia momentaneamente il parquet per lui fino a questo momento 7 punti e 4 rimbalzi riceve Rossini Blizzard va in penetrazione Blizzard va al tiro e va a segnare un canestro molto importante su un tiro abbastanza forzato Luigi si è stato un tiro in sospensione così forzato però molto bello devo dire perché è riuscito a tirare libero primo canestro tra l'altro sbaglia invece Gaeter rimbalza tanto per cambiare di Smith che però non riesce a correggere la traiettoria del tiro sbagliato dal compagno in precedenza buona opportunità mancata da Fabriano ed è Rossini in palleggio per Iesi esce dai blocchi Robinson viene ignorato dal compagno anche perché la situazione era fatta abbastanza complessa Rocca sotto canestro prende bene il tempo prende bene il centro dell'aria e trova anche un bellissimo canestro sta salendo di minuto in minuto Mason Richard Rocca 10 punti per lui doppia cifra è il secondo della sua squadra da ribarci 17 di valutazione fino a questo momento per quanto la valutazione possa essere un termine perfetto per giudicare la partita pensate che nel primo tempo chiuso in battaglio da Fabriano come valutazione era sotto rispetto a Iesi a cifre molto simili ad Antonio Smith se ci fai caso più o meno siamo lì 10 punti lui 11 Smith 10 rimbalzi da una parte 10 dall'altra tutto molto simile 46 a 40 però per Iesi che adesso ha la palla per allungare ulteriormente le distanze e le allunga con un altro canestro di Brad Blizzard che dal nulla mette questi due canestri consecutivi i primi 4 punti della sua partita ma sono punti micidiali anche perché adesso sono 8 i punti di distanza e in un 48 a 40 sono tantissimi adesso arriva anche il più 10 con Rocca che sfrutta l'assist di Whiting che ha rubato palla a Morri un parzialone micidiale per Iesi 50 a 40 qui Morri ha voluto tentare un po' l'impossibile ha voluto infilarsi in un blocco che non c'era che non gli era stato creato perché c'erano due giocatori a marcare e quindi purtroppo ha voluto fare una forzatura ed è stato punito in contropiede un canestro micidiale subito in questi ultimissimi secondi da Fabriano 50 a 40 se non ho fatto male i calcoli sono 8 i punti realizzati da Fabriano nel corso del terzo periodo e ovviamente qui come era facilmente prevedibile l'assenza di Drew Nicola si sta facendo sentire in una maniera incredibile Fabriano era riuscito a sopperire nelle prime battute con un grande carattere però alla lunga si sente ovviamente la mancanza di quello che è il capocannoniere del campionato di Lega 2 che ha adesso 10 punti da recuperare ripeto di solito in una partita di basket non sono niente però questa è una partita diversa dove Fabriano ha una situazione oggettiva di difficoltà e soprattutto una partita con punteggio abbastanza basso Fabriano sta giocando con grande intensità difensiva e sta cercando di giocare difensivamente a uomo martorriando l'attacco di Iesi anche fino a centrocampo è quasi un pressing e praticamente si trovano che in certi momenti però stanchi perché giocare in difesa in quel modo ti porta a scomporti in certi momenti e quindi ci sono in quei momenti Iesi affonda ed è veramente letale in attacco per Fabriano ovviamente 9 punti realizzati da Fabriano come avete visto nella nostra grafica 40 a 50 il punteggio 23 a quelli di Iesi che soprattutto nell'ultimo minuto ha scavato un bel fossato fra le due formazioni Rocca ancora con il suo gancio a centro aria riesce a recuperare nuovamente il rimbalza arriva il fallo di Antonio Smith e Rocca si fa sentire è salito molto lui di rendimento insieme a Blizzard beh Rocca non è nuovo a queste cose qua un po' esasperato il fallo che ha subito però è un giocatore che sta diventando decisivo in questa seconda metà di gioco tanto per complicare un po' la strada Fabriano è il quarto fallo di Antonio Smith quindi la situazione è sempre più difficile arrivano anche i due tiri liberi con le proteste della panchina fabrianese ovviamente non mi sembrava nel momento di tiro in quella circostanza comunque beh lui l'ha un po' l'ha un po' l'ha fatto vedere bene esatto l'ha voluto far vedere che che lui stava per tirare difatti non l'ho mai visto ario Costa così arrabbiato nemmeno dal giocatore io l'ho visto abbastanza arrabbiato quando giocava quando alla Scavolini in una partita a Bologna fu abbastanza duro in una reazione grandissimo giocatore un vero mito ovviamente del basket italiano grande penetrazione intanto di Daniele Cinciarini assegna un solo tiro libero intanto per Rocca in precedenza voi ne sarete sicuramente accorti io mi ero un po' perso nei discorsi ecco vedi questa difesa così a tutto campo porta a volte però ha delle scoperture ottima la penetrazione ancora di Blizzard che è l'uomo della partita fino a questo momento perché ha cambiato completamente il volto con una serie di canestri micidiali sono sei i punti dei Blizzard intanto abbiamo qualche problema con il nostro computer tutto risolto 44 a 53 dopo l'altro canesso di Cinciarini gran rimbalzo di Antonio Smith che mantiene in vita le esperienze di Fabriano ovviamente la partita è lunghissima può succedere ancora di tutto Morri in possesso di palla per gestire questo attacco che ovviamente è importantissimo come tutti quelli che seguiranno ma adesso il pallone scotta veramente nelle mani dei giocatori gran penetrazione di Flamini il passaggio scarico molto buono e il canestro di Antonio Smith lo rivediamo l'ottimo assist nella circostanza di Flamini meno 7 quindi Fabriano sta provando a ritornare in partita ammessa di chi sia mai uscita Whiting in palleggio marcato ancora da Flamini una marcatura asfissiante sta salendo molto Flamini bravissimo Cinciarini a mettere in difficoltà a Blizzard la palla è ancora però di Iesi rivediamo di chi è stato l'ultimo topo del piede di Cinciarini effettivamente time out chiesto probabilmente da Luigi Gresta la possibilità di andare a vedere i parziali fino a questo momento Reggio Emilia avanti di 6 con Rimini 58-52 più 15 per Pavia su Scafati 8 minuti dalla fine Imola sotto di 6 col banco di Sardegna potrebbe essere finale Ferrara Futur Virtus 67-72 finale anche per Ragusa in vantaggio 83-76 andiamo a sentire il time out intanto Treyas e Meso Trent over here and Brett over here Bam double pick get the ball and shoot the tree both big guys and the offensive rebound ok shoot immediately in any case so we have the offensive rebound if you miss ok here we go ovviamente disegnato lo schema per questa azione che durerà un secondo quindi non c'è molto tempo per pensare bisogna buttare la palla in campo e cercare di prendere un tiro accettabile vedremo un po' sarà presumibilmente un tiro da tre se abbiamo capito bene e probabilmente di Jamal Robinson vediamo un po' Jamal Robinson che come avete potuto vedere dalle statistiche che vi ho fatto la nostra grafica è la migliore in campo fino a questo momento per i suoi non c'è Jamal Robinson peraltro sul parquet il tiro era buono anche tutto sommato preso da Whitney palla persa in attacco quindi alla fine per Iesi e Fabriano può tentare la rimonta in questo momento Morri può riaprire la partita probabilmente Morri è proprio in possesso di palla gran palla per Cinciarine gran canesso sul taglio e Morri lo fa e Morri lo fa perché ha grande esperienza ed è un grande distributore di palloni in questi momenti Morri in regia in cattedra Cinciarini doppia cifra niente male davvero si butta dentro ancora una volta Brad Pizzart che sta veramente facendo danni incalcolabili ottavo punto per lui 4 su 6 da 2 tutto nel seconda parte di gara più 7 ancora Morri da 3 punti decisamente lungo il suo tiro rimbalzo conquistato da Brian Montonati Rossini a palleggiare oltre la metà campo riceve Whiting sempre controllato da Flamini si fa vedere sotto canestro riceve Rocca va via molto bene a Smith poi si ostacolano proprio Smith e Morri a rimbalzo quante palle ha perso in queste circostanze Fabriano arriva il time out chiesto questa volta da Stefano Cioppi e andremo a sentire tra qualche istante per la sua squadra più Rocca ok quando contro non è Whiting e stagli a muro ready with Shai Elf hey attacca inside against Montonati not Rocca ok contro Montonati e remember mano orso drive move and easy quali si però attacchiamo da Montonati orso first side second side inside against Montonati now now stay più vicino a Rossini switch e Cinzia e Flamo cambiate andiamo time out dove si è parlato un po' di tutto per Stefano Cioppi un po' sulla difesa dedicata a a Blizzard che sta facendo danni incalcolabili e Blizzard non è Whiting è stato detto puoi attaccare sul lato di Montonati invece quando c'è dall'altra parte anche se Montonati mi sembra che abbia ah no c'è ancora c'è ancora è ancora sul parquet canestro da due questa volta di anzi da tre di Whiting Whiting e Blizzard stanno mettendo sicuramente in una condizione più agevole Iesi canestro adesso di Antonio Smith 58 a 50 meno 8 Fabriano Iesi sta avendo grandi risposte dalle due guardie Cinciarini intanto tocca e il pallone ancora per Iesi 5 5 57 cinciarini stanno giocando una partita che si ricorderà per parecchio tempo sta roccando molto bene ma sai venendo a mancare poi un giocatore come Bruno Nicholas a quel punto le guardie devono per forza prendersi delle responsabilità che altrimenti non si sarebbero presi questa invece è una palla persa in attacco per Iesi che non riesce a servire Rocca sotto canestro Cinciarini in palleggio esce dai blocchi Morri va in penetrazione il fallo commesso su di lui da Whiting è soltanto il primo fallo di squadra però nel quarto periodo per Iesi quindi molto lontana dal bonus si riprenderà con una rimessa laterale il terzo fallo di Trent Whiting Flamini pronto a rimettere in gioco presumibilmente per Morri già 5 assist in partita per Morri quindi sulle sue medie stagionali penetrazione di Flamini che va fino in fondo ma c'è lo sfondamento ancora una volta la buona posizione difensiva dei giocatori Iesini che sta pagando e ancora tanto per cambiare Rocca che prende lo sfondamento per Jason Rocca pensate è il settimo fallo subito in totale e direi che un paio sicuri ma forse tre sono sfondamenti qualche protesta ancora da parte di Stefano Cioppi che tenta di lavorarsi un po' agli arbitri come costume ovviamente degli coach gli sta lavorando gli sta lavorando ai fianchi continua a polemizzare con gli arbitri e rischia di prendersi anche un tecnico anche se dobbiamo dire che i toni sono sempre estremamente paccati Rossini in palleggio scarica per Blizzard la penetrazione viene fermato bene da Cinciarini poi Rossini cambia il lato dell'azione per Trent Whiting penetra Whiting scarica fuori per Montonatica un buon tiro da tre lo va a sbagliare rimbalza di Cinciarini che parte subito in contropiede ma fino in fondo Cinciarini non trova il canestro grande penetrazione comunque ha preso il fallo e questo è importantissimo fallo di Montonati penso o di Rossini vediamo qua di Montonati quinto fallo quindi di Brian Montonati che finisce anzitempo la sua partita con quattro punti uno su due da tre e uno su due liberi questo è il motivo per cui Cioppi voleva giocare su Montonati certo certo sapeva ovviamente dei quattro falli e quindi finalmente si trovano senza Montonati con cinque minuti da giocare finalmente per Padriano ovviamente ovviamente però rientra Singleton che magari non è nella serata migliore della sua carriera ma è senz'altro un giocatore importante che può offrire un contributo per Iesi 51 a 58 ha sbagliato il secondo libero Cinciarini che è salito comunque a quota 11 trova lo spazio per il tiro da tre Rossini lo sbaglia rimbalzo di Flamini apertura per Morri che cerca di andare via e va a segnare un gran canestro Morri riporta meno 5 Fabriano abbiamo ancora una partita tutta da vivere in questi quattro minuti e trenta secondi che rimangono sul cronometro qui al balaguerriere di Fabriano Rocca servito da Whiting Rossini il taglio di Whiting Flamini lo controlla piuttosto bene lo costringe ad allargare un paio di finta e la penetrazione con un tiro improbabile cercato da Whiting rimbalzo di Smith e Morri che riparte in palleggio controllato da Rocca con una difesa molto fisica Morri va nuovamente fino in fondo e va a segnare un altro canestro incredibile anche questo canestro e Morri non ci sta assolutamente i finali di partita sono sempre stati il suo momento migliore e qui ce lo sta dimostrando ancora una volta carica anche il pubblico di Fabriano che si alza in piedi per sostenere la sua squadra 55 per i padroni di caso 58 per Jesic ha preso un paio di tiri in attacco che non sono piaciuti molto al suo tecnico e infatti è arrivato il time out beh comunque in questa fase sentiamo for Jamal ok for the one on one or we go ahead with the stagger ok I want if they switch if they switch we have Mason inside against the guard if they don't switch and we have the mismatch facing the bus ok one time or we run Giro and two and one ok intanto parziale di 7 a 0 per Fabriano Luigi il time out di Gresta che ha fatto fatica in realtà a concentrarvi su quello che stava dicendo no più che altro non si sentiva neanche molto bene e comunque praticamente stava chiamando dei continui cambi in fase offensiva e dei tagli d'area diceva switch cambiare sugli esterni adesso vedremo vedremo intanto la pressione di Fabriano che viene ben gestita ovviamente dalla squadra pressica tutto campo Rocca prende posizione sotto canestro e va a conquistarsi la rimessa dal fondo intanto Luigi Baduini firma autografi per ragazzini ma avrà scambiato per qualcun altro quarto fallo di Enrico Gaeta sono arrivati anche i finali dagli altri campi ve li daremo alla prima pausa difficile trovarne peraltro in questi minuti conclusivi palla che sta per essere persa da Yeezy che la riconquista 15 secondi comunque per andare al tiro con Whitney in palleggio ancora scusatemi Whitening in palleggio il rimbalzo di Morris l'errore di Whitening si butta in avanti Morric ormai fa tutto da solo è in trans agonistica prende il ferro Whitening ancora in possesso di palla dall'altra parte Rossini non azzarda la conclusione lo scarico nell'angolo per Jamal Robinson va a sbagliare Robinson non è abbastanza efficace in fase difensiva Barak altra palla da gestire in attacco per la Sikhiesi questo sarà un finale veramente da colpo al cuore perché stanno giocando le due squadre con un'intensità guarda beh qua forse Bozzo poteva essere un po' più aggressivo in difesa visto che stanno giocando una difesa a uomo che stanno incollati con un pressing incredibile invece l'unico che ha lasciato un po' correre è stato proprio Bozzo sta rischiando un po' troppo a rimbalzo la squadra di Fabriano che stava per buttarne via un altro Morri in palleggio Barak da tre per far saltare per aria il Palasport sfortunato in questa circostanza grande contropiede e canestro di Rocca e va invece a finire sul parche l'arbitro Paolo Quaci di Pavia scivola e si becca ovviamente i classici sfottò da parte del pubblico dal possibile pareggio al più 5 una bella botta questa per Fabriano grande apertura di contropiede tra l'altro di Robinson che si conquista ovviamente l'assist nella circostanza scusatemi è solamente il secondo assist di squadra per Iesi avanti di 5 a 2 minuti e 15 secondi riceve ancora Bozo Barac da 3 Flamini il ferro lo beffa nuovamente rimbalzone di Singleton di quelli che vale doppio parte l'attacco di Iesi con Rossini non dà troppo peso al cronometro la squadra ospite e butta via un tiro con Whiting il contropiede che non viene finalizzato e questa volta il canestro no non è canestro neanche in questa circostanza due stoppate micidiali adesso qua la situazione diventa abbastanza difficile da gestire cade un tabellone ripeto adesso lo vediamo anche noi in televisione meglio vediamo se la palla è arrivata sul tabellone il primo era un canestro validissimo e il secondo pure tutti e due erano validi due errori tremendi questa volta della coppia arbitrale che non è al replay lo citiamo ancora una volta però qui forse una decisione che può cambiare la partita due canestri validi consecutivi ovviamente ne sarebbe basso solo uno adesso gestire l'ordine pubblico all'interno del palasport diventa abbastanza complicato un fischio molto coraggioso se vogliamo da parte della coppia arbitrale però sbagliato esatto non è che era un po' difficile in questo momento con una fase così concitata e veloce della partita riuscire a capire un errore che crea molti problemi di ordine pubblico intervengono le forze dell'ordine andiamo a vedere i risultati intanto che ci concentriamo qui sul basket Reggio Emilia batte Rimini 74-60 quindi rush finale della capolista 87-81 invece il punteggio per Favia su Scafati Imola 74 Banco di Sardegna 78 Ferrara Futur Virtus 83-97 quindi vittoria per la fornazione di Castelmaggiore Bologna Ragusa Novara 83-76 c'è sempre mancato il parziale di Montecatini e Garofoli Osimo intanto la ripresa del gioco diventa sempre intanto grande nervosismo anche nei pressi della nostra postazione con Maria Costa veramente molto molto arrabbiato diciamo che alterato sicuramente è stato tolto un canestro che era validissimo queste le altre decisioni io preferisco assolutamente non spremermi perché non mi senti questo su questo possiamo vale due punti quindi non è che ne valesse dieci cambia un po' la situazione a un minuto e trentanove dalla fine si è ripreso a giocare adesso vedremo come se gli arbitri vengono influenzati o meno da questa bagarre che si sta creando dentro il palazzo Rocca in possesso di palla tutti in piedi all'interno del palastore di Fabriano sbaglia Rocca il rimbalzo è conquistato da Federico Lestini dall'altra parte già pronto Morri a buttarsi dentro contro quattro giocatori avversari la penetrazione di Cinciarini che trova il fallo di Alberto Rossini ma un fallo speso scientemente direi da Rossini perché non porta tiri liberi si riprenderà con una rimessa essendo Iesi arrivata a soli tre falli cinciarini in possesso flamini morri ancora cinciarini si butta dentro e arriva la stoppata che questa volta viene dato canestro valido beh questa volta era secondo me in fase discendente vediamo un po' c'era grande attesa per questa era più dubbia forse era più dubbia delle altre comunque canestro di Cinciarini che arriva a quota tredici Sig giustamente stoppa qualunque cosa gli capiti a tiro fallo di Cinciarini sulla pressione rivediamo no probabilmente stava scendendo si terzo fallo di morri non era di Cinciarini quindi il fallo due tiri liberi per Whiting stiamo un po' perdendo la trebisonda in questo macello che sta succedendo sbaglia Whiting 57 a 60 attenzione perché con 51 minuti quasi 52 51 secondi può succedere di tutto veramente segna il secondo libero Whiting 4 anzi 5 su 6 per lui dalla linea 10 punti totali morri ancora per i suoi meno 4 Fabriano si butta dentro morri fino in fondo stoppatissima questa volta pulita di Singleton Lestini da 3 il ferro lo beffa certo che Fabriano sicuramente ha qualcosa da recriminare in questa partita al di là della direzione arbitrale ma quanti tiri li sono usciti di un niente dovevano fare fallo subito e questa volta hanno costretto a fare fallo a Smith quando invece doveva essere Lestini assolutamente a fare fallo è anche il quinto e anche il quinto fallo di Antonio Smith che chiude la sua partita con 15 punti 6 su 13 da 2 3 su 6 ai liberi 13 rimbalzi dei quali 5 offensivi 24 di valutazione Robinson in lunetta ancora un tiro libero per lui 61 a 57 il punteggio cortissimo Robinson ma rimbalza di rocca poi palla nuovamente nelle mani di Robinson e adesso diventa obiettivamente molto difficile per Fabriano riuscire a raddrizzare questa partita mentre vola un po' di tutto anche nei pressi della nostra postazione grande frustrazione in caso Fabriano avete sentito probabilmente dai nostri microfoni le parole di Ario Costa arrabbiatissimo è veramente se l'hai sentita un po' rubata questa partita anche se così non è e io comunque credo sempre nella buona fede degli arbitri che non hanno come noi dei monitor su cui riguardare certi certi tiri su cui riguardare il replay difficile il mestiere dell'arbitro di palacanestro sicuramente uno degli spot più ardui da arbitrare Whiting a segno con questo tiro libero che dà il più 5 a Iesi 57 a 62 diventano adesso 6 punti a 24 secondi serve un tiro da 3 e anche in velocità lo prende Cinciarini dalla lunghissima distanza lo sbaglia e il rimbalzo di Singleton che non avrà fatto molto in attacco ma in difesa è riuscito a mettere parecchie pezze 3 stoppate dei quali due in realtà non valide 12 e rimbalzi comunque conquistati da Singleton adesso va in lunetta con due liberi ancora Whiting la partita sostanzialmente è finita con questo rimbalzo Singleton ha veramente chiuso la partita quindi è stato sicuramente uno dei giocatori che nonostante abbia fatto solo 7 punti è stato comunque importantissimo nell'economia proprio della Sicchiesi questa sera 1 su 1 e 2 su 2 per Whiting 65 a 57 10 secondi da giocare ormai è letteralmente finita la partita con Rossini che perde l'ultimo pallone Flamini lo mantiene in mano lo lancia Morri che va a prendere l'ultimo tiro da 3 punti e lo sbaglia ha giocato comunque una gran partita Morri sono giusti gli applausi che il pubblico di Fabriano tributa la sua squadra a festeggiare sono i tifosi di Iesi Fabriano al di là di quella decisione arbitrale al di là di qualche altra decisione arbitrale che ha adesato dubbio e perplessità in casa Fabriano ha giocato una grande partita e ha pagato ovviamente l'assenza di Drew Nicholas per buona parte dell'incontro finisce quindi il match con il punteggio di 65 a 57 l'abbraccio dei giocatori in mezzo al campo che aiuta anche il pubblico a digerire meglio la delusione un ottimo comportamento quello dei giocatori delle due squadre il miglior realizzatore dell'incontro è stato Jamal Robinson con 17 punti 15 quelli di Mason Rocca ancora di una grande partita il migliore come valutazione ancora Robinson con 22 da una parte 24 invece per Antonio Smith dall'altra con i suoi 15 punti a me non resta che ringraziare Luigi Balduini per il commento tecnico ringraziamento a tutti voi telespettatori per la cortesa attenzione per chi ci segue in diretta anzi ringraziamento anche per la regia di Franco Venditti per chi ci segue in diretta non cambiate canale perché c'è ancora grande basket su Rai Sport Satellite con il posticipo della Serie A1 fra due squadre molto molto importanti ecco qui il problema serissimo alla caviglia di Drew Nicholas davvero molto sfortunato speriamo che possa riprendersi al più presto dicevamo non finisce qui il grande basket su Rai Sport Satellite abbiamo adesso Siena contro Fortitudo Bologna un grande match tutto da vivere con il commento di Massimiliano Mascolo e Marco Bonamico arrivederci a tutti e buona serata di Massimiliano Mascolo